...in anteprima il lungometraggio d'esordio del regista barese Leonardo Ginefra. Melissa è una ragazza rimasta orfano con i suoi tre fratellini, vive di espedienti e così conosce Leandro, apprendista nella bottega del falegname del paese. Comincia così la storia dell'invisibile senza dell'anima, primo lungometraggio del regista barese Leonardo Ginefra. Una storia ambientata tra gli anni 40 e 60, una vita completamente diversa. Perché ha scelto questo tipo di ambientazione? Perché in quegli anni i sentimenti erano più veri, erano più sentiti, differentemente da oggi che siamo troppo coinvolti con questi cellulari, con questa tecnologia, non abbiamo il tempo di metabolizzare. L'anteprima del film, girato interamente in Puglia, si è svolta nel cinema Vignola a Polignano, nel cast Guendalina Losito, volto delle fiction e Fabrizio Berlincioni. Fabrizio Berlincioni è plurivincitore, insomma, di Festival di Sanremo, ha scritto Ti lascerò per Fausto Leali e tantissimi altri brani che noi cantiamo. Dopo questa prima si va a Roma? Dopo questa prima si va a Roma, Festival Corti sul Mare. Siamo stati selezionati come special guest con l'Ivisibile senza dell'anima che ora è in prima qui al Vignola di Polignano a Mare. E siamo stati selezionati come in finale per I colori delle faline, che è un altro corto che ho fatto per un tema a me molto caro che è violenza domestica e bullismo. E siamo al calcio e in programma oggi le gare di ritorno.